prego molto onorevole collega va di via noi arrivati prima noi non frega una mazza noi avere precedenza per attellare prego non rompe le palle e tu comincia a riprendere con quella telecamera noi venire da destra e attellare prima di voi da destra di che qui siamo in cielo onorevole collega non su strada da destra di sol levante onorevole stronzo fate come vi pare stai riprendendo tu a si voglia prendete allora beccati questo che è che mi hai tagliato di netto il braccio con quella scimitata perché sono un samurai e io sono un mediaset ora ti faccio vedere onorevole figlio di troia che fai perché ti metti quella benda in testa ora vedrai sa che no grazie non bevo sul lavoro allora salute buono pilota banzai ma che ti vengo addosso come un kamigaze e la scena sarà ripresa dal mio amico a chiro che sta arrivando su un altro dei nostri elicotteri eccolo la dove la per mille palinsesti non avrai neanche il tempo di fare cala chili cala chili cos'è una dieta pilota banzai pezzo di merda palema i conti all'inferno banzai a